Buonasera a tutti, benvenuti in un nuovo video. Oggi vi ho preparato due varianti per la domanda che cosa pensa di me? Fate la vostra scelta, avete a disposizione variante numero uno, questo clown, per identificare il matto, e variante numero due, il cactus. Voi concentratevi, cercate di radicarvi e di centrarvi, scegliete poi la variante che vi attira di più delle due, potrebbe anche essere che entrambe vi attirino, in questo caso potrebbe anche essere che abbiate più messaggi da ascoltare in ciascuna variante, quindi potete anche ascoltarle tutte e due. Ok, io vado subito con la variante numero uno. Ok, variante numero uno. Andiamo a vedere che cosa pensa questa persona di voi. Che cosa pensa questa persona di voi? Che cosa pensa questa persona? Abbiamo un asso di maschere. Che cosa pensa questa persona di voi? Il cavallo di croci. Che cosa pensa questa persona di voi? Che cosa pensa questa persona di voi? Che cosa pensa questa persona? Il due di farfalle. Che cosa pensa questa persona di voi? che cosa pensa il 5 di farfalle sul fondo del mazzo abbiamo il 2 di rose allora queste carte hanno dei semi particolari quindi hanno le maschere le farfalle le rose e le croci come potete vedere abbiamo una persona che si sente vittima dei vostri comportamenti si sente vittima di penso di alcune cose che gli potete avere fatto quindi dolore quello che sente da parte vostra è crudeltà badate bene potrebbe essere che abbia ragione come potrebbe anche essere che stia facendo la vittima con se stesso se stessa e anziché magari vedere come stanno realmente le cose voglia dipingervi come carnefici questo non lo sappiamo però io vi dico quello che pensa di voi pensa che voi li abbiate fatto del male che non siate assolutamente la persona per lui o per lei e che la cosa che deve fare è finalmente riuscire a staccarsi da voi e dopodiché prendere il volo e andare nella sua direzione effettuando un cambiamento radicale quindi significa proprio un cambiamento nella sua vita staccarsi questo cambiamento è proprio netto quindi senza ritorno dimenticarvi per sempre dunque abbiamo anche il 2 di rose come carta di fondo mazzo il che mi segnala che c'è un romanticismo tra di voi o comunque che c'è della passione però mi sembra una passione un po un po tossica ok quindi attenzione perché non lo so questa persona mi sembra un po particolare ma andiamo a vedere con i tarocchi di avere ulteriori informazioni che cosa pensa questa persona di voi che cosa pensa questa persona di voi cosa pensa ok abbiamo due carte la temperanza al contrario poi abbiamo il 5 di spade che cosa pensa questa persona che cosa pensa 4 di bastone al contrario che cosa pensa questa persona il papa al contrario sul fondo del mazzo abbiamo lotto di denari vi posso dire che questa relazione è giunta al termine probabilmente proprio perché quello che quella persona vuole e non c'è più spazio per quelle che sono per la pazienza per un nuovo avvenire non c'è più spazio nemmeno per una ricostruire un nuovo rapporto e non c'è più spazio nemmeno per l'introspezione per magari capire chi ha fatto cosa che ha sbagliato cosa insomma non c'è più nessuna speranza di di andare verso un qualcosa di un progetto comune io vedo questo abbiamo il 5 di spade inoltre che ci dice che questa persona potrebbe essersi costruita tutto nella sua testa e portare avanti questa cosa e voi la dovete lasciare andare oppure anche potrebbe significare per alcuni di voi semplicemente che ci sono in corso dei conflitti o che ci potranno essere dei conflitti per terminare questa relazione io vedo che comunque c'è dell'astio moltissimo astio tra di voi quindi questa cosa deve essere presa in considerazione necessariamente non è una cosa che va sottovalutata vediamo gli oracoli che cosa hanno da dire vediamo se avete gli oracoli hanno un consiglio per voi sì ok abbiamo sì e chiede aiuto agli altri diamo un'altra carta ok prendiamo solo la prima che questa qui esatto e allora si va a legare all'altra carta dunque io ti posso dire che questa persona ha una sua visione delle cose ben precisa se pensa che gli hai fatto del male o alle sue ragioni o comunque è convinta di questo quindi cioè non c'è niente che tu possa fare altrimenti si non avrebbe un punto di vista nel senso è giusto che sia così io ti dico che quello che ti ho appena detto e cioè me lo confermano gli oracoli quindi è assolutamente così il consiglio degli oracoli è chiede aiuto agli altri e a persone che ti possono aiutare quindi come consiglio dicono anziché diciamo rimuginare tutto da solo da sola quello che sta succedendo con questa persona magari prova a chiedere un punto di vista esterno però fai attenzione a come racconti le cose perché potrebbe essere che tranquillamente tu possa raccontare la tua campana e ovviamente non essendoci la campana dell'altra persona potrebbe anche essere che sembri che diciamo abbia ragione tu però in realtà magari gli sbagli sono da entrambe le parti ok quindi cerca di magari chiedere aiuto a qualcuno un punto di vista più che aiuto cioè un punto di vista esterno a qualcuno raccontando che cosa è successo va raccontandolo in maniera oggettiva cerca di non farti influenzare da quella che è magari la tua emozione sul momento o il tuo giudizio verso quella persona semplicemente ok io spero di esserti stata di aiuto noi ci vediamo domani con un altro video alle 20 sempre come al solito io ti abbraccio e passo alla variante numero 2 eccoci qua variante numero 2 variante del cactus vediamo un po questa persona che cosa pensa di te abbiamo due carte prendiamole come sono uscite quindi abbiamo il paggio di bastoni al contrario il 5 di spade che cosa pensa questa persona di te che cosa pensa questa persona 3 di coppe che cosa pensa questa persona di te che cosa pensa questa persona non so la prima davanti e abbiamo le stelle sul fondo del mazzo regina di coppe al contrario dunque vedo anche la tua energia in questa stesa vedo che tu hai aspettato a lungo questa persona vedo che è come se avessi dato quell'amore per tanto tempo incondizionato no quindi quell'amore che ti fa dire ma si puoi fare quello che vuoi non importa io sarò sempre qui comunque anche se magari mi fai del male io rimango qui e ti rimango qui da aspettarti però adesso vi siete stufati vi siete stufati avete deciso di dare un taglionetto a tutte le relazioni tossiche penso che non sia soltanto una questione di rapporti proprio di affettivi cioè nel senso rapporti di coppia quindi partner ma proprio anche nelle amicizie in rapporti magari di parentela che erano un po tossici così avete deciso di liberarvene quindi non tanto magari di liberarvene ma di non essere più lì alla merce di queste persone quindi se queste persone hanno intenzione di trattarvi bene ottimo ci siete se queste persone hanno intenzione soltanto di sfruttarvi o comunque di farsi i loro comodi e avervi sempre a disposizione voi non ci siete più consentitemi di dire che questo è ottimo quindi molto bene abbiamo poi un paggio di bastoni al contrario con il 5 di spade il 3 di coppia e le stelle allora io vi posso dire che se avete vissuto dei momenti nei quali avete vissuto proprio una sorta di triangolazione magari con una persona o vi siete sentiti traditi avete magari avete discusso avete litigato ci sono stati conflitti con qualcuno e questo vi ha portati a stare male e vedo anche che magari con quella persona e penso che si tratti proprio di questa persona qua di cui avete chiesto quello che vedo che è come se questa persona pensa che non non valga la pena di di costruire qualcosa con voi e quindi voi state andando verso qualcosa di nuovo avete le stelle cioè questa persona via via un po fatto del male mi ha molto fatto del male direi e questo vi porta proprio a volere qualcosa di più qualcosa di più che è dato dalle stelle ma le stelle la la bellezza che sta in questo arcana non è data soltanto una relazione di amore può arrivare anche da da qualcos'altro ci avete pensato quindi da dentro di voi voi potete trovare quello che è la fonte della vostra più grande gioia dentro di voi e credo che sarà una passione sarà un qualcosa che vi piace tanto fare e che vi può occupare le giornate in maniera veramente felice sarà questo darvi la gioia vera e naturalmente poi potrete attirare qualcuno di più premiante purtroppo questa persona sembra non essere molto coinvolta con voi pensa che voi siate sì importanti però dal punto di vista affettivo cioè dal punto di vista passionale purtroppo non sembra molto coinvolto tant'è che vedo che poi va a cercarsi anche magari altre situazioni e purtroppo purtroppo fa questo quindi voi state soffrendo molto per questo vi siete stufati di stare lì ad aspettare andiamo a vedere con i tarocchi di avere un'ulteriore spiegazione era uscita una carta andiamo a vedere che cosa pensa la persona della variante numero 2 che cosa pensa di voi della variante numero 2 e guardate stava uscendo questa di nuovo e adesso è uscita quindi era proprio questa che stavamo aspettando abbiamo un re di coppe il contrario il re di coppe il contrario è proprio la persona non premiante per antonomasia quindi allora andiamo a vedere con i tarocchi abbiamo un 5 di coppe al contrario andiamo a vedere che cosa pensa di voi questa persona abbiamo queste due carte andiamo a vedere altre due carte che cosa pensa di voi questa persona che cosa pensa di voi che cosa pensa di voi cosa pensa di voi cosa pensa di voi questa persona 3 di coppe al contrario e il 2 di spade allora abbiamo 3 che scusatemi abbiamo due carte due arcani scusatemi due carte non due arcani 23 di coppe praticamente cioè è uscita la stessa carta in due mazzi 3 di coppe il 3 di coppe non è una carta positiva in queste estese d'amore in questo senso cioè abbinato queste altre carte e vi posso assicurare che il 3 di coppe al contrario è ancora peggio è un aggravante quindi significa che questa persona non è assolutamente una persona premiante per voi se state aspettando di capire qual è il suo giudizio nei vostri confronti sappiate che il suo giudizio non vi deve interessare perché probabilmente sarebbe un giudizio frivolo e non è stata in grado questa persona di aprirsi e capire quanto voi avete da dargli voi siete persone estremamente empatica ce lo dice proprio la regina di coppe è in grado di dare tanto ma veramente tanto così tanto che questa persona è come se sperperasse il vostro i vostri doni vedete queste coppe che cadono per terra e infatti quello che fa e andare a cercare di avere delle validazioni no dagli altri e lo fa andando a cercare proprio altrove andando a cercare in altre persone e mi dispiace dirvelo però anche perché vedo che evidentemente potreste non esservi o non esservi accorti oppure vi siete accorti e sapete benissimo che questa persona va in questa direzione ma non volete dirlo voi stessi o comunque vi fa troppo male vederlo per quanto cerchete di vederlo è come se aveste sempre una sensazione di avere una benda sugli occhi avere come diceva la mia maestra dell'elementare il prosciutto sugli occhi ok ecco questa è la sensazione che avete ma è normale naturale perché se vi fa molto male è naturale che vi trovate in questa energia però insomma quello che quello che quello che dovete vedere adesso lo sapete ho anche il 6 di coppe come fondo mazzo che mi dice cercate di andare verso a un'introspezione vostra cioè perché avete attirato una persona così perché vi tenete nella vita una persona così perché state chiedendo del giudizio che questa persona di voi questa è una persona che non vale molto quindi cercate magari di andare a fondo capire in le motivazioni le mancanze magari vi hanno insegnato che non meritate di più di questa persona di una persona del genere invece no ve lo assicuro me lo dice la regina di coppe meritate tanto non mi è uscita un'altra carta mi è uscita la regione di coppe la regione di coppe è veramente una persona con tanto tanto dentro un mondo interiore molto ricco compassione amore tanto e voi lo sapete quanto valete ok andiamo a chiedere agli oracoli di avere una ulteriore un consiglio insomma un consiglio per la variante numero due un consiglio per la variante numero due due carte infatti ragazzi guardate un po che cosa mi dice scegli una nuova direzione staccati da questa persona prima di tutto fregatene del giudizio che ha di te perché perché non vale niente né lui nel suo giudizio perdonatemi però devo dirlo e o lei se una lei e vai a cercare un'altra persona perché meriti di più ma questo se l'ho già detto prima ti dico anche che la situazione migliorerà se adesso ovviamente questo si riferisce a te non alla relazione perché devi soltanto andartene da qui salvarti mi viene da dire non ti preoccupare che se farai questo quindi andrei un po fare un minimo di anche introspezione capire quali sono le cause che ti hanno portata o portato qui cercherei di risolvere quelle dopodiché potrai trovare una persona migliore infatti andrei verso una nuova direzione la situazione migliorerà cioè non sarà sempre così non avrai sempre personaggi di questo tipo assolutamente però devi fare questo perché le cause risiedono dentro di te le cause per cui arrivano sempre queste persone sono dentro di te sul fondo del mazzo abbiamo acquisisci maggiori informazioni e qua mi sentirei proprio di dirti che probabilmente è bene che tu acquisisca maggiore informazione sulla dipendenza affettiva è una tematica che penso ti possa interessare se ti va di dare un'occhiata io ho fatto una playlist proprio su questo si chiama psicologia crescita personale e parlo di narcisismo e di dipendenza affettiva e ovviamente io non sono una psicologa lo dico sempre però se ti va puoi trovare anche tanti altri video di persone che sono psicologi e che hanno fatto video su youtube oppure meglio ancora ti consiglio di andare a leggere libri manuali diagnostici meglio ancora che parlino della dipendenza affettiva qualche lettura che parli di questo se riesci cerca di non leggere niente di romanzato perché ci sono anche dei romanzi come donne che amano troppo queste cose qui che parlano di dipendenza affettiva però non te lo mettono in chiave realistica cioè te lo raccontano come se tu fossi la poverina ok sostanzialmente in realtà non è questo il punto in realtà il punto è che dobbiamo prendere le nostre responsabilità è giusto finché un dipendente affettivo non è in grado di prendersi le sue responsabilità e di capire che il problema è lui con i suoi atteggiamenti quindi che si pone troppo a disposizione degli altri che non è abbastanza egoista perché l'egoismo sano è giusto averlo e tutte queste cose qui ma continua magari a fare la vittima di se stesso quello che viene maltrattato non riuscirà mai ad arrivare a una soluzione vera quindi devi entrare nel tuo potere devi devi capire quali sono veramente queste dinamiche che si stanno proprio prendendo gioco di te della tua vita cerca di risolverle e poi potresti anche acquisire informazioni anche da da un percorso con un terapeuta niente toglie questo anzi forse la cosa migliore più che andare a leggere da soli è proprio affidarsi a un terapeuta quindi ti consiglio anche questo ok io spero di esserti stata utile noi ci vediamo domani alle 20 sempre con un nuovo video una nuova lettura io ti abbraccio e ti saluto ciao ciao ciao